Martin Parr è un camaleonte, si confonde, si intrufola, riesce a diventare tutt'uno con l'ambiente che fotografa e ha il coraggio di scattare qualunque fotografia. Forse perché in quel suo lessico così profondo ha sempre come interfaccia l'ironia. Non per niente ha detto che si può imparare di più sul paese in cui si vive da un comico che dalla conferenza di un sociolo. E se c'è un paese transnazionale che lui ha fotografato più di chiunque altro e che ha saputo sarcasticamente raccontare più di ogni altro, questo paese si chiama danza. E proprio per fotografare meglio la gente che balla ha imparato a confondersi e a fotografare ballando lui stesso. Alcuni studi scientifici dicono che ballare previene il decadimento cognitivo e dalle fotografie di Martin Parr il ballo sembra proprio una forma di resistenza. D'altronde lui è il fotografo dei tanti piccoli gesti che dimostrano che la società sta deperendo. Come potrebbe non avere una fissazione verso chi questo deperimento lo combatte? Non è gente che balla nelle sue foto. Sono partigiano.